Evitato il dissesto economico del comune di Isernia grazie alla decisione della Corte d'Appello di Roma, chi ha sospeso l'esecutività della sentenza che condannava il comune Pentro a risarcire la ditta spinosa. Il contenzioso risaliva agli anni 90 riguardava i lavori di realizzazione dell'acquedotto. La parola ora spetta la Cassazione, come confermato dal legale Sirio Carloni. Abbiamo ottenuto un risultato che per il momento mette tranquillo il comune di Isernia perché la Corte d'Appello di Roma ha decretato la sospensione della esecutorietà della sentenza di appello e dell'odo che con quella sentenza era stato confermato e quindi attualmente la situazione è ferma. Quindi la spinosa non può più eseguire l'ordine di pagamento, la condanna di pagamento del comune e quindi se ne parla con l'esito del giudizio in Cassazione. Per il momento l'amministrazione guidata da Brasiello può tirare dunque un sospiro di sollievo. Il comune di Isernia ha evitato il dissesto economico. La sospensione e il ricorso in Cassazione che abbiamo già fatto ci dà le speranze giuste che il comune possa finalmente avere ragione. Il primo cittadino ha inoltre precisato che fino ad ora non si è potuto procedere all'approvazione del bilancio preventivo perché è in attesa della sentenza sull'odo spinosa. Noi possiamo adesso, avendo un bilancio certo, con entrate certe, cominciare a pensare, a recuperare sicuramente l'evasione fiscale per pensare nel 2015 di fare un bilancio che non andrà più in dodicesimi e che potrà permettere a questa amministrazione, quindi alla città, di riabbassare le tasse che abbiamo dovuto aumentare negli ultimi giorni.